Buon appetito alla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna per traffico intenso. Sulla Firenze Mare per traffico, coda di 2 km tra Firenze Ovest e Firenze Peretola e coda tra Pistoia e BV11A1, tutto verso Firenze. Qualche problema in Fipili, sono 8 km di coda per operazione di ripristino incidente tra Ginestra e Firenze Scandicci in direzione di Firenze. Troviamo inoltre rallentamenti all'altezza di Firenze Scandicci in carreggiata opposta, coda in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da SGC Firenze Livorno e coda in uscita a Montelupo per chi proviene da Livorno. Il traffico urbano del capoluogo, rallentamenti sulla direttrice Porta al Prato, Fortezza Piazza della Libertà, traffico sostenuto anche in via Bolognese e in zona via Sestese e viale 11 agosto. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!